Piazza Pepe a Campobasso interdetta alle auto il provvedimento del Comune che già in passato aveva stabilito il divieto di passaggio, sosta e fermata in Piazza Prefettura, torna di attualità e questa volta non per i comitati e cittadini schierati contro la sosta selvaggia dei mezzi in una zona che dovrebbe essere solo pedonale e dei negozianti che si oppongono. Questa volta il Comune di Campobasso torna a ribadire l'interdizione alle auto di Piazza Pepe con relativo spazio davanti alla Prefettura e via Ferrari per motivi di sicurezza. Una richiesta partita espressamente dalla Prefettura di Campobasso in adozione delle misure disposte in tutta Italia dal Ministero degli Interni. Misure antiterrorismo quindi adottate anche nel capologo regionale del Molise dopo i fatti di cronaca ben noti che hanno visto fanatici islamici scagliarsi con furgoni a tutta velocità sulla folla in difesa. Quindi ribadito il divieto rispettato finora a singhiozzo di accesso, transito, sosta e fermata nella zona in questione. Saranno però istituiti tre spazi per la sosta riservati agli automezzi al servizio di persone disabili vicino alle due farmacie e due aree per il carico e scarico delle merci. Questa volta il Comune farà di più per sottolineare la sua decisione. Verranno apposte barriere di sicurezza, nello specifico saranno collocate grosse fioriere che consentiranno però il passaggio in maniera rallentata alle auto delle Forze dell'Ordine titolari di Passo Carrabile e auto del 118.